Ciao ragazzi, sono Falcorero, oggi sono qui, siamo Elisa Ciao Per un nuovo video di Fallout 76 Wastelanders Allora, siamo alle porte della casa del soprintendente Ehm... che è? Cos'ha sulla... C'ha le stelline, perché non si può? Dunque, intanto gli potremmo rubare... no, la mia cassa La mia cassa? Ma io non abito qui, che io sappia È la sua La mia di lui La mia di lui O la sua di lei Vabbè, senti, se cominciamo così, se ne esce oggi, te lo dico Allora Speriamo che non ci siano casse parlanti Dear soprintendente Mai... lei verrà sopraffatta dalla bellezza di Tonino, secondo me Tonino per gli amici Tonaino Tonaino Il Ton Il Ton Il Tony, allora scusa, se proprio dobbiamo Il Tony Il Tony è un po' più spagnoleggiante Sì, proprio Andiamo a parlare di sotto Qui si sta bene, ma Vorrei tanto Presentarti una persona Finalmente sappiamo che faccia Chia Esatto Dai pure un'occhiata in giro È un invito a rubare? O ci mette alla prova per vedere se rubiamo? Dai pure un'occhiata in giro Ma io non tocco più niente dopo l'ultima volta Mi spiace Nessun colpetto Mi muovo Non diamo colpetti Come se fosse una cristalleria Ma chi c'è? Un robot Più Salve Lascia che ti presenti da Avenport Mi sta dando una mano con qualche ricognizione Teniamo d'occhio la palacchia Oh, mi fa piacere conoscerti Il soprintendente è così contento di vedervi tutti Ambientati pure con calma Sappi che in futuro potrei avere del lavoro per te Senza di lui questo posto non esisterebbe Allora parliamo Parliamo So che hai delle domande E ti darò le risposte Ma c'è una missione importante Ma ti manca la preparazione È troppo pericoloso Non posso incaricarti a cuor leggero Prima di ogni altra cosa Devi farti vaccinare contro la piaga degli ardenti Hai visto come riduce le persone La dottoressa Hudson stava lavorando a una cura Il suo laboratorio era all'aeroporto di Morgantown Comincia da lì C'è qualcos'altro di cui vuoi parlare? Ma sta a scherziare Non è il modo più rapido per raggiungere il livello 20? Non c'è questa domanda, vero? Ma fu un ottimo Mi hai meravigliosamente illuso Nessuno ha avuto più le tue notizie Cosa hai fatto tutto questo tempo? Alquanto ipocrita da parte mia Che tra tutti me ne sono andata da sola Vero? All'inizio era questione di arrivare per primi Se ci fossero stati guai Li avrei previsti E poi c'erano le bombe La piaga degli ardenti Vedere il mio vecchio quartiere distrutto Avevo bisogno di tempo Ci hai abbandonato perché avevi bisogno di tempo Eh Io ti avrei abbandonati Hai una vaga idea di quanto sia stato difficile uscire Lasciandomi alle spalle la porta di quel vault Sapendo che probabilmente non vi avrei mai più visti Cosa blattera? Infrangere il protocollo Voltec Per lasciare indietro il mio camp Gli olonastri E kit di approvvigionamento Con la vana speranza che potessero Tenervi al sicuro Non ho mai smesso di essere il vostro soprintendente Senti Moglie di Kevin Spacey in House of Cards Per cortesia Con vent'anni del più sulle spalle Perché stabilirsi Non puoi vaccinarmi e basta Ecco Sto cercando di capire meglio La ricerca della dottoressa Hudson Spero che un giorno Riusciremo a sviluppare un vaccino Ma siamo ancora lontani Il suo laboratorio potrebbe comunque sintetizzare Un vaccino per te Se funziona ancora Ma io voglio essere già di livello 20 Avevo delle domande Spero siano stati utili No Li sto ancora cercando Ricorda che non è una caccia al tesoro Li ho disposti affinché potessero esserti d'aiuto Perfino in mia assenza Ho capito Ma dammi le stesse informazioni Visto che sono qui Vabbè Arrivederla Va attenzione là fuori Insieme abbiamo reso la palacchia più sicura Ma Morde ancora Vabbè ma Cioè nel senso Darmi Che ne so Due armi Qualcosa di Di vagamente utile No eh Signora Lei però mi Mi dilude Il soprintendente Io siamo molto occupati Eh te vedo In la palacchia sta succedendo di tutto Ma perché hanno tutti la stessa voce questi Vero Qualsiasi 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 Robot Robot Perché mi hai detto con la stessa intonazione che accaressa quando pronuncia i nomi delle squadre a FIFA Ah si a FIFA Pest Verona Dunque Allora prendiamoli Visto che sono qui Io ho qualcosina Te lo ruberò No la torta Ma no le forchette Vabbè Tanto che gli servono Quella magna con le mani Ma che ne hai vista Non si apre Ah C'ha il figo rotto Eh Protettore Vabbè Io Io Mi aspe Mi faccio tornare nudo in doccia No Ma non è il mio tipo La signora in effetti Vabbè No vabbè Scusa Piano di sopra Voglio vedere chi possiamo Perché insomma Se uno è obbligato a A A Star qua Sono venuto qui Colpetto No è finto È disegnato È tutto drammaticamente finto Vabbè Questo me lo prendo Le munizioni me le prendo Ma non è stato del tutto inutilissimissimo Venire qui Insomma Qualcosina Sono uscito dalla porta Pensavo che fosse Che fosse la camera da letto Invece era Era il terrazzo Ma che cazzarola di porte c'ha questa dentro casa Che sono tutte uguali La porta che sembra del bagno La porta Quella che era una volta Lo studio È diventato lo studio del signore Citazioni lusse Di film di verdure Qualcuno avrà accolto Qualcuno no Quella che era la tua cameretta Adesso è diventato lo studio Quello che era Vabbè È ficus Siamo Siamo a livello 12 Mancano 8 livelli Cari dai E noi non usciremo mai più di qui 8 ore Dunque Allora Studia la ricerca Siamo a fare il barbecue Non vuoi fare un barbecue Ammolla Eject Eject Ma non hai capito come si pronuncia Eject amore Eject Appena eject Eject a rapporto Dunque Quindi Vai su vai su In tutto ciò Il nostro Penny Tonino Facciamo rivedere il nostro Tonino Il nostro Penny Tonino Dove deve andare Penny stupid Tonino A fare danni Studia la ricerca Della dottoressa Ma che me frega No vabbè Allora andiamo Segui la mission No Segui la missione È lontanerrima Vabbè è meglio Avventuriamoci Avventuriamoci Perché mi punta di qua No Qua c'è un evento Che non ci interessa Momenti mancanti L'ho fatto Settantordici volte Quando Facevamo I primi tempi Allora io intanto Vado al cryptide misterioso Ma no È perché è più vicino A meno Sennò ci mettiamo due anni Questo Fa tre passi E se stacca Con quei scari Hai paura di ratto d'alpa Eh lo so In effetti sì Ho ratto d'alpa gigante Umido lì Umido Quello è quello che hai cucinato Una creatura ribelle Sta terrorizzando la palacchia Che si tratti del leggendario Slea Shipsquatch Richiamo la creatura Usando una scheda di richiamo Per assolto nel terminale La creatura non subisce danni In modo della furtiva Teni d'occhio la salute Poiché mentre sei in un traliccio Subisci danni Evita di entrare Nelle brucianti In generale della creatura Scoffiggio la creatura Vabbè ma noi muoviamo Allora lo skipsquatch O è la rana gigante Non è lo skipsquatch È shipsquatch C'è gente leggermente Pi' forte di noi Io però posso 92 O è la rana gigante C'è penso io Ma è invisibile Secchissimo Non mi fiderà nessuno Di pezza Si si prova prova Che ho d'aiuto Vai C'è grande amore reciproco Per questo Ci aiuta Hai visto? Guarda davanti Guarda davanti Questa come ci ha aiutato Che gentilezza Che gentilezza eh Dicevo questo shipquatch Una community sana Che si vuole bene Questo shipquatch È un Io me ne vado O è la rana gigante O è pure quella specie Di dinosauro piccolino Ah Poi diventa materiale conduttore Ti sto a riazzare adesso A pagliaccio Occhio perché C'è un delito Vabbè su Io io non so come uscire di qui Prova prova Che prova prova Maravissime Non glielo può fare che è vero Marco se fossi veramente lì a morire Me darebbe una mano questi Infami maledetti Ma aspetta al barco Magari se gli vai più vicino Perché te sono Niente Beh siamo di livello troppo basso Perde tempo No Dunque Andiamo via Riuscirò a fuggire Devo andare a nord 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 Sì Arrivederci È stato tutto molto bello Io però Ho tantissime cose da fare Per qui arrivederci Andiamo un attimo in bagno E torniamo subito Vai vai Ma aspetta Manca un minuto Un minuto e dieci Può essere che ci danno qualcosa Per aver partecipato all'evento Io non me ne andrei Con questa velocità Onestamente Per un minutino Che manca Occhio perché lì Dove? Alla davanti Sicura? Secondo me Secondo me comunque Se diamo una mano A uno E poi Tocca a noi Vedrai Oh no L'ho attivato Perché non ci hai provato? Ma perché Perché conosco le persone E non sono un inguaribile ottimista Come te Si è visto chiaramente Che nessuno frega niente Di nessuno Non è quel tipo Ma una volta ci hai provato Non è quel tipo di gioco online La gente è ancora avvelenata Per quello che hanno lanciato All'inizio del ciclo vitale Di Fallout Si odiano E manifestano il loro odio Ignorando Chiunque altro Si c'è lì Con calma che è lì Ho visto Ho visto Sta lì ad aspettare me Cioè proprio Cambia Cambia Turbina Caccia Caccia Tonino Un incessante Caccia Aiuta Vedi che ci avrebbe aiutato Non penso se stai da noi Siamo davanti al terminale Tu stai È un inguaribile Ma voi non sapete La volta che noi litighiamo Nella vita Di tutti i giorni L'evento fallita Che hai visto Ecco Per colpa tua Cosa è successo Niente Che amarezza Vai vicino a loro Ma basta Con sta cosa Di fraternizzare Allora Io toro i giochi Online Perci mi piace Chi è Derelitto delle acque Dammunate Ma questo è di allo 4 Lo posso sfondare Poi ce lo dico Vai a dei colpeto Vai con l'ultimo colpeto Ancora Come ho fatto allisciarti da Vedi come Ci ha rotto un braccio Dove ci ha mandato Aiuto Fuggiamo Fuggiamo Perché scappi? Sono un coniglio Non l'hai visto Tonino Come ha ridotto Ti sembra un uomo Con un po' di coraggio Con quelle scarpe Girerebbe con quelle scarpe Se avesse del coraggio E della dignità No Potrebbe essere amico Di quel pagliaccio Di America North Una bocca in meno Da sfamare Disse l'uomo morente Ma c'era qualcosa sotto Devi Fantasticolla La fantasticolla In un mondo Come questo C'è la colla fantastica Sì perché l'hai presa Mi è caduta un'arma Mentre cadevo Ma non dovrebbe accadere Vabbè Ah no no È un ramo Dunque Allora dopo questa Piccola digressione Di là Devo andare Di là Ok Sarà Temo Che sarà Una serie lunga E tempestosa Sì sì Ci sarà Deve vedere Delle belle Estremamente Complessa Articolata E ricca di insidie Se volevate Riusciremo a farci Rianimare Comunque Sì eh Io scommetto Che da qui A fine serie Non riusciremo A farci Rianimare Da una sola persona No Vediamo se vince Chi crede ancora Nell'umanità Lei O chi ormai Ha perso le speranze Io Perché È diventata Una sorta Di lotta Filosofica Esatto Barra sociologica Dunque 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 Ma piccato Già che c'era qualcuno A partecipare Agli eventi La community È viva E lotta Insieme a noi Però Occhio Però Però Qua i danni La cadulla Sono Sono discreti Discreti No comunque Quattro Le camere spette Tocca a far qualcosa Per forza Perché Il cattro Perché Per livellare In maniera Un po' Pi rapida Siamo quasi Al 13 Sì Per cui Non è che Ci metteremo Chi sta qua Specialmente Solo inizia A carburare Un po' Perché Perché Il sistema Di puntamento È leggermente Fuori fuoco Dei pochi giochi In cui Se liscio Un nemico Posso dire Che non è colpa mia Quello è finto Siamo dalla parte giusta Comunque Se li rompi Penso che ti Sblocca qualcosa Si però Ti riempi di radiazioni Anche No Non tanto Fita a te Di 2-3 Fita a te 2-3% Ma te fita Non te fita Questo è vivo Messaggio prioritario Per i soccorretori Si richiede L' evacuazione Immediata Della chiesa Dei primi amici Di Charleston A causa Di una violenta Infestazione Scavare in questa zona Permette di recuperare Risorse A patto di essere Ben equipaggiati Per il compito I civili Non devono avvicinarsi Quando suonano Le campane Si ma guardi Io Sto passando Una giornataccia Ma prego Dai che stiamo Per livellare Dai che stiamo Per livellare Stavolta Dov'è che lo mettiamo Il punto? Su forza? Lo mettiamo Sono tentato Si Di mettere qualcosa Più che altro Per aumentare anche Il peso della roba Trasportabile Eh infatti Perché è una Continua lotta Questa di Di chili Con la bilancia Ciò che amo piccolo umano Vai 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 Sii Uccidere E' un altro No Ragazza te lo lascio Mi appesantisco Troppo Il caffè Non è mai stato Solo una caffetteria Era un punto di ritrovo Dove incontrare I vicini e gli amici La consapevolezza Di conoscere Altra gente In città Era un frammento Di umanità Che si poteva Comprarlo A prezzo Di due biscotti E un po' di zucchero Eh questa è poesia Eh poesia È poesia Questo è buono Che schifo Il cibo in scatola Ma perché Ah no È quello per umani Tu non mi apprezzi Il cibo in scatola Le meraviglie Del cibo in scatola Donna di poca fede E' un ruotatore De scuarte medica Eh si ma devi pagare Ma paga Ma chi te si schioppa Dunque Andiamo a studiare La ricerca Ma che ci devi fare Quei dati Ma te non ti preoccupi E ce devo pagare Un sacco di cose C'è solo I debiti pure qua Mica sono in Animal Crossing Ormai Ormai I giochi ci insegnano A vivere Da questo punto di vista Anche troppo Molte fede Sono tutte Un ripagare Un debito Esatto Ci preparano psicologicamente Alla vita che verrà Che bello Commovente Dunque Da che parte No c'è Sono Leggermente problematico Quel water Ma se io volessi Scendere al piano Di sotto Attenzione Cittadini Attacco nucleare Imminente Abbandonare la zona Il prima possibile Grazie per la collaborazione So convinto Che sta a scherziare Dai che fai a scherziare Se non Dici la verità Spadone Nermucchio Tanto che Bottarella Come da le bottarelle Donino Nessuno Un uomo Chiamato Bottarella Donino Irbotta Irbotta Di qua Ma addirittura Dai che si rivella Dai che si rivella Chi è che scatarella Ma non volevo uscire Papà Oh no Sbloccare Penso che sarà molto lunga Questa serie Con questo vago sospetto Che potrebbero accadere cose Con una frequenza inaudita Allora La vedo La vedo Problematica Dico la verità Sì Io pensavo Che ce la saremmo Cavate 10 episodi Che ne so E a Natale Faremo Faremo concorrenza Alla serie di FIFA Con 120 episodi Di Follaro Hai sei zampe? Ah no Ha sei zampe Vari occhi allineati Sulla schiena E una lunga lingua Coperta di Melmacida Melmacida Vabbè ma in tutto ciò C'è qualcosa di No vedi che mi fa rientrare Un'altra volta Io non ce la posso credere Morte dall'alto Tempo all'impatto Ma in che senso? Uh è vero allora Che c'è l'attacco Tu non penso Che possa fare Viaggio rapido Trova la chiesa Ma stiamo veramente Per morire? Vediamo vediamo Che succede Sta a 10 secondi No Sette Sei pronta A stappare? Quanto? Tre? Due Aiuto Uno Il colpo È lì È lì È lì È esplosato là È scoppiata davvero Vabbè ma noi abbiamo altre cose da fare in questo momento Dunque Dobbiamo andare a studiare questa ricerca Maledetta Io capisco come Come andare sotto Di grazia Ma non mi va sotto Forse c'era un tunnel Mi rimane sopra Io voglio andare sotto Un tunnel Un tunnel No credo Credo che ci sia banalmente Una scalinata Che conduce giù Ma Guardiamo bene per te Poi questa è una questline Di quelle Di quelle originali Ah vedi Ho completato anche la missione morte dall'alto Sono stato bravo Che me dai? Come premio? Un pezzo di Un pezzo di appalacchia mi danno Che spara Il tuo gambero Ok Allora Ma dai Sentivo passi intorno a me Famo sto vaccino Perché noi non siamo No vax Analizza campioni Che non ho Panoramica C'è qualcuno intorno? Sì Dialo del progetto Vabbè Interessantissimo Ah ecco Trova un fusibile Type T Type Type Perché Tipe? Una volta che lo dici giusto Ottieni Campioni di sangue Di un ratotampa Tipe Campioni di sangue Di un golferale Tipi tipitero E un'altra cosa E un'altra cosa E un'altra cosa E un lupo Perché non si può Ce ne sono rarissime Allora intanto scusate Ho fatto anche un salto di gioia Involontario Allora forza a tre Picchiatore Accumulatore Ecco Il peso No no L'armatura Ha un peso Inferno del 25% Ma non l'abbiamo Ce l'ho Ce l'ho E quella è sopra Quindi siamo Adesso abbiamo Da trasportare No C'è un per 165 Però abbiamo guadagnato Quel chiletto In più Allora Ottieni Scusate Però noi non vi stiamo Facendo leggere La totalità Degli obiettivi Perché siamo posti Troppo in alto Ecco Ci mettiamo qua Così c'è pure spazio Per tutto Un listone aggiuntivo Allora Qui torneremo Trova il modo Di entrare Nel deposito Della miniera Che non è qua Che non è qua Allora Miniera di Greg Gulferale Qui ce l'abbiamo In abbondanza Dico bene? Eh in teoria Si sono rimasti I vari corpi Sì Qui mi sa che stanno su Ho sentito rumore Avrei giurato Che fosse qua Ma era una Ma era una simpatica burla Temo No era Mi sa Che veniva da su Sta su Sta su Ehi Allora Devo Devo salire Serve Uccidere Oh Oh Ah ma Alla Ah ma Sta Che poi Non è Un Bulfurale Ha Un Errante Ardente Giusto Vabbè Allora La gloria Dei punti di esperienza Dove sta Vabbè Non c'ho tempo Allora Deve sta a perdere Dunque Quindi Però scusa Vediamo un attimino La mappa In modo da Ah ma è tutto Qui intorno Però scusa Ma tutte le Le fazioni nuove E' vero Non abbiamo mezza quest Per andare a prestare Alle fazioni nuove E' vero In questo momento Forse dobbiamo andare avanti Con E' abbastanza spiazzante Questa cosa Con il resto E poi si Dice che si sblocca E' andare avanti Si attiva Non è che ci si è buggata La questline E se non Non figurano Che c'è una parte di me Che teme esattamente Quello Ma magari Mi sbaglio Vero? Vero che mi sbaglio Che non si è buggato niente? Vero? Sì Speriamo Che Ce la posso fare Vabbè Se non uno Ripende dall'ultimo Perché tutte queste quest Quella del vaccino Eccetera Io l'ho fatta Ai tempi Con la versione base E sono tali e quali Penso abbia senso Di farle Da capo Ad ogni modo Ad ogni modo Allora Intanto Questo possiamo Attraggare Le spiaglie Andiamo a fare Andiamo a fare Altro Dunque Qui No Trovo un fusibile Type T Ma paserebbe Io scusa L'ultima volta Che noi ci siamo Confrontati Con I Tizi Del pub Eravamo rimasti Che i banditi Andavano a prendere Il corpo Dell'automatron Non c'abbiamo Nessun tipo Di questa attiva Per andare da loro Perché Non ha molto senso Tutto ciò Prova a vedere Sul Pboy Guardalo Guardalo Prima di registrare Non c'è niente Se qualcuno Sapesse qualcosa A riguardo Gli saremmo Veramente grati Perché per adesso Non sembra Proprio chiarissimo Quello che bisogna fare E Vorremmo capire Se c'è Se c'è margine Per Perché altro Anche qual era Il punto Per andare lì Perché magari Loro stanno là Vabbè Il punto Basta che vediamo I vecchi video E capiamo Dove era Eh appunto Però Cioè Mi pare strano Che non ci sia Qualche Qualche Spunto Che si leghi A quello Che stiamo facendo E' vero Che hanno inserito Tantissime cose Nella Come si dice Nella progressione Canonica Per cui magari Appunto Come hai detto te Si sbloccherà Andando avanti Però Non c'ho Questa certezza Matematica E' quello il discorso Vabbè Comunque Adesso Andiamo qua Secondo me Comunque Verranno fuori Naturalmente Nella progressione Cioè Toccando avanti E E vediamo Che succede Allora Intanto Intanto Trovo Un modo Non basta Per essere utile Ok Quanti ardenti Ci stanno Poi Ok Più che altro Ammunizioni Siamo finalmente Messi bene Perché La porta richiede La chiave La porta richiede La chiave C'è Deve essere Un modo Per entrare Su Ok Ci sarà Un modo Per entrare Finito Allora Qua Ci sarà Una cantina Non Ah si Ecco Dicevo Si è Si è Conservata Incredibilmente Bene La signora Esatto E Allora Munizioni C'era anche Del cibole Instamash Chi è Ok Allora Qua Stiamo morendo Di sede Nel frattempo Ok Vivi Vivi Agio Vedete se mi posso Fidare te E Allora Qui niente Qui quasi quasi Una riciclata veloce Giusto per prendere Un po' di peso In meno Qui è un Trapanatore Trapanante Nastro americano Niente Vabbè Carica il loot Farza Ci siamo Fusibile Munizioni Granata Rottami d'oro Nano da giardino Perché Cosa c'entra Nano da giardino Vabbè Il tuo inconscio Lo voleva Il mio inconscio Porta Portagenere Ho smesso Grazie Non serve più E Niente Probevi poi Mi chiede la chiave Beh Siamo bloccati Dentro Ah ma Greg Basta chiave Vabbè La chiave deve stare Da qualche parte Eccola Ok Fa anche fame Ora lo facciamo Mangiare No Ok Qua le forcine Sono tipo La cosa Più Più Rara Del mondo Si A differenza Degli altri Mangia Mangia De passa Otteniamo capire di sangue Del gulferale Visto che siamo qua Termini di Greg Allora qui ci vuole La tua capacità Vai Facciamo Settle No No Allora facciamo Ground No Quanti ne mancano? Due Ne faccio uno io Vai Patrol No Damage Eh? Damage Perché è francese? Damage Non è damage Damage No Niente Si è bloccato il sistema Complimenti Quando si sblocca? Complimenti vivissimi Fredeva Damage C tua Damage Questa veramente Poi dici Vabbè Cosa me ne frega Sta sbloccato Oh Allora Golden Arrange Pisto che aveva portato bene Golden No Toilet Pane Pane Senti a Greg Tanto che poi aveva scritto di interessante Greg con qua la fascia che ti ritrovi No ma che li proviamo Ma ci diamo No ma l'ultima volta L'ultima volta Solo perché sei vero Allora E' terminale più complicato dalla storia Spara con Ranges Ranges Poi non si trinia ogni volta che sbaglia Eh ci siamo quasi eh Quindi Affinità due Due lettere Forse Groups Questa Se Grangi No E allora è per forza Arguned Arguned E' argued Niente No no Aspetta Rivaliamo Un'altra volta Non si blocca neanche più Allora iniziamo con moment 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 Quest Un'easy No perché avrebbe la S Bring S No Luxury B Believe Quale sarà Believe o Luxury Luxury Ciao T'ho dato letto Vedi una volta Baba Poi c'è E' stato utilissimo Perché C'è un diario Che non stiamo leggendo Esatto E' il comando della cassaforte Che abbiamo già forzato Per cui Grazie Greg Ti ricorderemo Nelle nostre preghiere Ma anche no Nel nostro belief Nel nostro belief E damage 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 Penso che interrerà proprio Nel Nel La leggenda di questo Damage Vabbè Ragazzi Qua io credo che le cose Saranno lunghe e tempestose Per cui per il momento Potremmo anche fermarci Noi andremo avanti Gioco forza Tre camere spente Facendo un po' di roba Sì Il che probabilmente Farà sì che voi Non vediate questo video Prima di lunedì Perché noi passeremo il weekend Visto che è il weekend Ad andare un po' avanti Ovvero Lei Andrà avanti Mentre io farò altro Mi tocca Devo finire Final Fantasy E mi sa che Mi butterò su quello Dando a lei il piacere Di livellare Su Fallout Per cui ragazzi Io per adesso Vi saluto La mia dolce metà Hang Ciao E noi ci vediamo Domani Domani